E ora parliamo del caos riguardante i bonus edili. In Puglia i cantieri e le aziende rischiano di fermarsi a causa del caro materiale ma soprattutto di una legislazione confusionaria. Questo è l'allarme che viene lanciato dalla Confartigianato Pugliese. Damiana Sgaramella. In Puglia decine di migliaia di imprese artigiane sono ad un passo dal blocco dei cantieri a causa del caro materiale e di una legislazione confusionaria. A lanciare l'allarme è la Confartigianato Puglia. I continui cambi di regole nella disciplina dei bonus edili, specialmente per quanto riguarda il profilo della cessione dei crediti, mettono in crisi edili impiantisti e serramentisti che vivono ormai mesi di gravi incertezze. La Confartigianato Pugliese sottolinea che le imprese sono costrette a dover recuperare o monetizzare crediti già presenti nei propri cassetti fiscali per lavori eseguiti, senza nessuna certezza ma con la necessità di dover pagare dipendenti, fornitori, Stato e IMS dopo aver rischiato capitale proprio o aver assunto impegni con le banche. Dall'altra parte diventa complesso riuscire a programmare nuovi lavori perché proprio gli istituti di credito si dichiarano oberati, indisponibili o semplicemente diffidenti e non considerano profittevole acquisire crediti, soprattutto quelli di piccolo importo. Dal prossimo anno è in arrivo un ulteriore vincolo che potrebbe compromettere la ripresa del settore, ovvero l'obbligo di chiedere alle imprese l'attestazione SOA, strumento usato per gli appalti pubblici, per lavori il cui importo complessivo sia superiore a 516.000 euro. Se non si cambia subito rotta, affermano dalla Confartigianato, siamo destinati al fallimento in tempi brevi, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di contraccolpi occupazionali per i nostri collaboratori.